Questo è il primo trofeo della solidarietà che verrà consegnato al termine della partita alla squadra vincitrice, mentre seconda e terza le medaglie, ricordo. Siamo qui a Suzzara per l'inizio della finale del primo trofeo della solidarietà che è stato rinviato domenica scorsa per le avverse condizioni meteorologiche. Si affrontano la squadra della Napolitania in maglia grigia contro la squadra della rappresentativa siciliana in maglia rossa. Stanno per dare il calcio d'inizio di questa finale. Ecco qua, vinca il migliore. Qui siamo già 2-0 per la Napolitania, dopo 5 minuti di gioco la partita sembra già indirizzata su un risultato favorevole per i grigi. Qui la partita sta continuando, adesso siamo 3-0 per la Napolitania che è ancora in attacco. Qui abbiamo anche un guardialine, sponsorizzato ovviamente, due Sicilie. 5-2 per la Napolitania. La partita ormai sta volgendo al termine, il risultato è di 7-4 per la Napolitania. Ovviamente non è tanto importante il risultato, anzi direi che è poco importante. L'importante è stare insieme, divertirsi, conoscere nuovi amici e creare spirito di gruppo. Ecco qui la partita è terminata, 7-4. Adesso ci passiamo alle premiazioni e poi andremo tutti quanti a pranzo insieme per cementare queste nuove amicizie e per proseguire la giornata in allegria. No, tu no, dei vincitori. No, il capitano dei vincitori. Ti ringrazio della partecipazione. Ti ringrazio per la partecipazione. Libero. Le premiazioni sono effettuate da Antonio Iannacone, presidente dell'Associazione Culturale Due Sicilie di Suzzara. Ti ringrazio. Grazie a te per aver partecipato. Viene premiata la squadra seconda classificata, la rappresentativa siciliana. Questa è la squadra vincitrice del torneo, la rappresentativa napolitana. Adesso viene premiata anche la squadra prima classificata, la rappresentativa napolitana. Grazie. 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 Ciao, grazie. Ti ringrazio. Grazie. Grazie. andrea 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 aspetta vengo anch'io andrea bravo a foto every here 3 and grazie a te ed ecco la consegna della coppa la prima coppa della solidarietà bravo capitano non è un'altra fatta dai 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 dai